Direttore Ramella, che cos'è Campagna Amica? Campagna Amica è una rete fatta a livello nazionale che appunto mette a linea, mette insieme aziende agricole con i loro punti di vendita diretta, mette insieme botteghe, mette insieme punti e botteghe di aziende agricole individuali e di cooperative. Oggi siamo qua in una cooperativa che è aderito al progetto di Coldiretti e al progetto di Ucorp e appunto qua nei punti vendita di Campagna Amica i cittadini consumatori possono trovare le produzioni fatte direttamente dal produttore agricolo e in questo caso si tratta di produzione fatta da una cooperativa sociale. Quando parliamo di cooperative sociali sappiamo benissimo che sono produzioni fatte con tanto amore, con tanta passione, anche da parte di persone diversamente abili.